Fiumi e mari percorsi da Marco Polo per raggiungere l'Oriente, 700 anni dopo. Vie d'acqua di commerci ma anche di scoperta. E quelle percorse dal grande viaggiatore veneziano sono state uno dei temi della quattro giorni organizzata a Rifugio Galassi sulla forcella piccola dell'Antelao a Calalzo di Cadore. Risorsa acqua dalle Dolomiti al mare, qualità sviluppo e biodiversità, il titolo. Un'occasione di dibattito sulla gestione delle acque relativamente ai cambiamenti climatici, all'inquinamento, alla bonifica e alla riqualificazione di territori. L'accento è stato posto anche sui diversi aspetti tecnici e gestionali del MOSE, il sistema di dighe mobili a difesa di Venezia dall'acqua alta. Un'opera ingegneristica riproponibile in città con problematiche simili a quelle della città lagunare. Il modo in cui abbiamo approcciato questo seminario è stato quello di cercare di portare l'attenzione sulla gestione dell'acqua, sulla gestione in questo caso proprio fisica, cioè in che modo la soluzione adottata da Venezia attraverso il sistema MOSE ha consentito a Venezia di passare ad essere tra quelle che erano le città più minacciate da questi fenomeni, ad essere in realtà invece, almeno per un po' di decenni, tra le città più protette del mondo. Collegati da remoto i rappresentanti di quattro città cinesi riconosciute patrimonio UNESCO, città sull'acqua proprio come Venezia, tra cui Suzhou, la città gemella dove negli ultimi anni tanti sono stati gli interventi per mitigare l'impatto degli eventi atmosferici e il trattamento delle acque stesse. Importanti opere di bonifica invece hanno interessato altre due città dell'Oriente, con esempi di rigenerazione urbana e ambientale tramite la riapertura di grandi parchi pubblici che oggi ospitano eventi e festival. Esempi quindi e testimonianze a confronto con approfondimenti e scambi di esperienze per la ricerca di nuove tecnologie. Quest'anno siamo qui per il terzo anno per trattare il tema dell'acqua, dalle Dolomiti al mare, un tema così caro alla città che da sempre l'ha affrontato in tutte le sue forme e le sue dinamiche. Quest'anno sono anche i 700 anni della morte di Marco Polo e lo vogliamo dedicare a lui proprio tenendo presente che il suo viaggio di ritorno l'ha fatto proprio per acqua. Non solo. Il tema dell'acqua l'abbiamo impostato anche sull'internazionalità. Quest'anno hanno partecipato quattro città cinesi, quattro città visitate da Marco Polo e dove anche ha vissuto e amministrato. Abbiamo capito dagli interventi che sono stati fatti questa mattina che il problema dell'acqua è un problema globale. Città con altre dimensioni, milioni e decine di abitanti, però il problema dell'acqua rimane importante per tutti.